Buongiorno a tutti da Amleto Petrarca in questo video proverò a darvi alcuni suggerimenti utili su come superare il lutto quando si parla di lutto spesso ci si riferisce alla perdita di una persona cara ma non è sempre così infatti la parola lutto si può stendere a qualcosa di molto più ampio come la perdita della propria salute la perdita dell'amore verso una persona cara oppure la perdita del proprio ruolo lavorativo e sociale insomma la perdita di qualsiasi cosa dove noi nella nostra vita abbiamo investito parecchia energia questo fa sì che quando noi subiamo il lutto si scateneranno una serie di emozioni negative che poi ognuno di noi reggirà in maniera diversa come vengono gestiti dentro di noi queste emozioni per poter affrontare al meglio il lutto vediamo tre punti principali che io ritengo veramente importanti il primo punto principale che io ritengo veramente importante per poter elaborare il lutto è quello di non cercare di reprimere queste emozioni ma di viverle lasciarle uscire il secondo punto che ritengo veramente importante è quello di cercare di entrare in contatto con le emozioni che stiamo vivendo queste emozioni possono essere di rabbia di dolore di tristezza il terzo punto fondamentale che noto in alcune persone è la tendenza a sentirsi forti a far finta di niente come se non sia successo nulla in realtà questo non fa altro che lasciare una ferita indebile dentro di noi